L'onorevole Mirella Liuzzi del Movimento 5 Stelle cita il patto della Basilicata firmato dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione Marcello Pittella che prevede un semplice ammodernamento del tratto FAL Bari-Matera. Le nostre proposte sono ad esempio collegare Matera, per esempio la direttrice di Gia del Colle che è a doppio binario e raggiunge anche i 230 km all'ora piuttosto che far passare la gestione della tratta Matera-Bari dalle ferrovie a Polo Lucane direttamente a Trenitalia. Questa è una proposta che abbiamo avanzato più volte anche ai vertici di ferrovie dello Stato che sono rimasti anche possibilisti su questa alternativa.